Il conflitto catalano torna a squadrare il dibattito politico in Europa e in Spagna dopo la notizia arrivata da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità agli eurodeputati Carlos Puigdemont, Clara Ponsatti e Tony Comin, che da più di tre anni vivono fuori dalla Spagna. In patria, sono ricercati dalla giustizia per aver partecipato nel 2017, quando ricoprivano rispettivamente gli incarichi di presidente e assessori regionali in Catalogna, all'organizzazione di un referendum non autorizzato sull'indipendenza della regione e ha un tentativo di dichiararne la secessione dalla Spagna. Senza immunità, i tre tornano a rischio di stradizione, ma decidere se accettare gli ordini di arresto internazionali saranno i tribunali del Belgio, nel caso di Puigdemont e Comin, e della Scozia, per quanto riguarda Ponsatti. Fu lì che si stabilirono una volta abbandonata la Catalogna, dopo che i tribunali spagnoli si erano attivati per giudicare loro eventuali responsabilità penali. Oggi è un giorno triste, ha detto Puigdemont sul verdetto dell'Europarlamento, aggiungendo che questo è un caso di persecuzione politica. La notizia è stata invece accolta con soddisfazione dal principale socio della coalizione di governo a Madrid, il Partito Socialista, che a Bruxelles ha votato a favore, insieme alle altre formazioni di centrosinistra, ai popolari e ai liberali.